Ieri 3 luglio la consulta ha dichiarato illegittima la riforma delle province contenuta nel decreto Salva Italia di Monti e il loro riordino, che ne prevede la riduzione in base ai criteri di estensione e popolazione. Infatti sono stati ritenuti violati le leggi 111,2 e 133,1. La prima sancisce che lo Stato detiene la legislazione esclusiva nell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato stesso e degli enti pubblici nazionali. La seconda afferma che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica. Giuseppe Calì dichiara La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il decreto Salva Italia di Monti nella parte in cui prevedeva l'abolizione delle province. Vediamo adesso la reazione di Crocetta che ha commissariato tutte le province. Mi sa che ottobre sarà un mese intenso di emozioni. E ancora Giuseppe Mistretta, ex consigliere provinciale. Intervento frettoloso di Crocetta sulle province appare ancora più un serio autogol di deriva antidemocratica. In conclusione, per procedere all'ormai famosa abolizione delle province, l'unica via percorribile sarebbe una riforma costituzionale e non più una legge ordinaria. Spetta a Palermo la decisione ultima. Grazie. 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 Grazie.